Dottore Giordano, le notizie degli ultimi giorni riguardano la farmacia ospedaliera di Sciacca che verrebbe declassata nell'ambito della nuova rete ospedaliera. Qual è la posizione del Comitato su questo? La posizione del Comitato è sulla scia delle cose che abbiamo detto quando abbiamo parlato di questa ipotesi di ridimensionamento delle strutture complesse, i primariati per intenderci, in favore delle strutture semplici, che sembrerebbero una misura di razionalizzazione. Ma così non è perché questa razionalizzazione intanto avviene solo in periferia, perché nelle strutture periferiche, come possono essere le ASP provinciali e poi a cascata gli ospedali che sono all'interno delle ASP, si vorrebbe procedere con queste forme di razionalizzazione della spesa, non bisogna creare giustamente doppioni eccetera eccetera e così via, concentrare le risorse. Poi scopriamo che nelle grandi strutture metropolitane questa regola non vale, per cui noi possiamo avere 5 reparti di senologia, 4 radioterapie, 3 cardiochirurgie e così via, perché evidentemente ci sono degli impegni presi con certe strutture che non possono essere disattesi, che non possono essere smettite. Quindi c'è questa contraddizione e in questo c'è un'assoluta continuità, indipendentemente dalle maggioranze politiche, come se ci fosse un grumo di potere che si articola attorno alla sanità e che rivendica i propri diritti fregandosene delle esigenze reali, dell'efficienza reale delle strutture sanitarie periferiche, ma anche degli impegni che a parole vengono pressi. Lei ritiene che sia immaginabile una revisione di questa impostazione attuale? Perché il Presidente della Commissione dell'Ars, Margherita Larocco Ruvolo, dice parlerò con l'assessore, vediamo cosa possiamo fare. Lei crede che si possa ritornare indietro? Guarda, io sono dell'idea che stiamo cadendo nel gioco che viene pianificato dai detentori reali della programmazione sanitaria in provincia del Grigento, che non sono i direttori, ma sono i fiduciari politici che ricevono in subappalto l'incarico di gestire la sanità in periferia, in barba a maggioranze, in barba a esigenze delle comunità e così via. Quindi questo fatto che ci costringono a inseguire il singolo provvedimento, oggi la farmacia, ieri l'emodinamica, l'altro ieri la neonatologia, è molto sospetto. Noi abbiamo una grandissima fiducia nella Presidente della Sesta Commissione, Margherita Larocco Ruvolo, ma non basta, non basta la sua volontà se noi non riusciamo a mettere al centro delle scelte che verranno fatte, la qualità dell'assistenza, per la qualità secondo noi bisogna intendere la proprietà delle prestazioni, l'accessibilità delle prestazioni e la semplificazione delle procedure, nonché la valorizzazione di chi sa fare le cose per cui viene assunto. A queste condizioni noi ci potremmo anche stare. Tutte le altre mi sembrano discussioni fatte per gettare fumo negli occhi di chi aspetta sempre ulteriori novità. Nei giorni scorsi la decisione della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente invalidato le nomine degli ultimi manager, direttori e commissari straordinari. Su questo c'è stato un parlamentare regionale, l'On. Pullare, il quale ha detto che a questo punto bisogna fare un po' il confronto con gli ultimi cinque anni di produttività dell'aspeto di Agrigento, mi è sembrato che si invocasse il ritorno di Ficarra. Senta, in questi giorni noi viviamo contemporaneamente a queste simpatiche considerazioni l'esperienza di un vero manager che purtroppo è morto, che sarebbe Marchionne. Marchionne si confrontava con il mercato, con la concorrenza reale fatta di qualità di prodotti e giustamente poteva rivendicare, ha potuto rivendicare fino a poco prima della morte i progressi fatti dalla FCA, il fatto che avesse restituito i debiti e che la FCA, quindi la fusione con la Chrysler, abbia ormai posto questa industria al settimo posto nel panorama mondiale dei produttori di automobili. La sanità è leggermente diversa. La logica aziendale applicata alla sanità significa, o dovrebbe significare, offrire sanità di utile, appropriata e di qualità ai prezzi più ragionevoli nell'ambito delle risorse dedicate. Allora, se noi l'Agenas la tiriamo in ballo come paramento tecnico per giustificare scelte di opportunità o di convenienza politica dietro il paramento di questa agenzia che effettua un lavoro di monitoraggio continuo della qualità, mi sembra una maniera sbagliata di affrontare la discussione, perché i meriti che rivendicava il per niente rimpianto direttore precedente dell'ASPA di aver ottenuto dei risparmi, degli avanzi di bilancio addirittura e poi scoprire che non esistevano contratti di manutenzione degli ascensori, che il problema delle zanzare era stato liquidato dicendo che l'ospedale era stato progettato nella zona paludosa per cui era inutile qualsiasi intervento, intimidire il personale fidandolo dal rilasciare interviste, scegliere gli organismi di informazione in base all'affinità ideologica vera o presunta con i desideri del direttore, tutto questo non ha niente a che vedere con l'Agenas. Fra l'altro abbiamo notato che dalla stessa fonte, onorevole Pullara, vengono fuori considerazioni o autocelebrazioni sul metodo della concertazione che sarebbe stato introdotto a proposito della rete ospedaliera, dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, perché o il riferimento con l'Agenas lo si ricerca sempre, confrontandosi con i dati reali di attività degli ospedali e quindi invitare l'assessorato a programmare gli interventi e la progettazione della nuova rete ospedaliera secondo criteri di modernità, di appropriatezza, di value, come si chiama oggi, cioè il rapporto fra risorse impiegate e risultati concreti, oppure smettiamolo di utilizzare questi riferimenti a convenienza. Per esempio sulla bozza della rete ospedaliera noi abbiamo sentito dire che ci sarebbe una neonatologia a canicattì, una allicata e una sciacca, tre cose che sono impossibili da mantenere, perché se la neonatologia si intende non la terapia intensiva neonatale che c'è ad Agrigento, ma una terapia semintensiva per i neonati che non hanno bisogno di assistenza respiratoria H24, dove si ha visto un punto nascita già esistente, è un discorso, ma se si intende per questa strada gettare fumo negli occhi per proporre risorse, strutture dove non esistono nemmeno punti nascita degni di questo nome, siamo di nuovo di fronte a una triste tradizione di politicantismo o di politica politicante che serve a confondere le idee e in ultimo per noi la concertazione ha un valore preciso, non nell'iniziativa del singolo deputato o del singolo direttore col singolo sindaco del Paese che si lamenta o meno, esiste la conferenza dei sindaci, ne abbiamo parlato noi anche col sindaco di Sciacca, prevista dalla norma vigente e prevista anche dal buonsenso direi, perché ci sono cose che si possono fare anche al di là dell'esistenza o meno delle norme, la conferenza dei sindaci è il luogo ideale per far sì che la percezione dei problemi e le soluzioni ai problemi vengano discusse e dibattuti nelle sedi previste, nella maniera più aperta, chiara e ufficiale possibile, quindi queste fughe in avanti. La conferenza dei sindaci è che convoca il manager, no? Ma no, può essere anche promossa benissimo dal sindaco Capofila, nel nostro caso dal sindaco di Sciacca, che so essere sensibile su questo tema, ma l'abbiamo proposto a suo tempo anche noi di fatto come comitato, quando sul problema dell'emodinamica oppure del destino dello ospedale di Sciacca come idea di primo livello, abbiamo praticamente chiamato per un confronto pubblico tutti i sindaci del territorio dei comuni che gravitano sull'ospedale di Sciacca, quindi il problema non è solo la forma, ma la volontà reale di avere un colloquio concreto, senza fughe di lato, in avanti, sovra o sotto, sulla sostanza dei problemi, altrimenti siamo di fronte a una campagna elettorale che non finisce mai. Intanto i problemi tutti i giorni ci sono all'ospedale. Sì, ma questo... Poi rischia questo di passare nel dibattito in secondo piano, ma per chi frequenta l'ospedale invece è in primissimo piano. Ma certo, perché ci sono problemi che nonostante le strategie degli annunci e degli impegni sono rimaste di dove erano. Noi adesso ci troviamo di fronte a questi impegni assunti dal commissario Venuti che sembrerebbero ispirati a un minimo di buonsenso, è l'unico che si è esposto con un impegno pubblico scritto nero su bianco, secondo me questa è la traccia che dovranno seguire e quelli che vedranno dopo, per continuarlo oppure per emendarlo laddove fossero opportuni dei miglioramenti. Ma al di là di questi metodi non vedo io quali ce ne possono essere. Anzi, la conferenza dei sindaci dovrebbe in questo senso svolgere un lavoro di... non dovrebbero essere i comitati spontanei a fare questo lavoro, dovrebbero essere i sindaci dei comuni attraverso la conferenza dei sindaci o degli organismi più snelli, di tipo operativo, a vedere se gli impegni assunti, laddove vengono assunti, perché talvolta vengono semplicemente elusi o sono stati elusi, vengono rispettati nella tempistica e nelle modalità di risoluzione.